I vicini rumorosi In una casetta che sorgeva in mezzo ad altre casette perfettamente uguali fra la chiesa e la stazione abitava un uomo molto infelice era infelice perché viveva fra un meccanico di motociclette e una maestra di musica ogni mattina l'uomo veniva svegliato da colpi di martello strombazzamenti e rombi di motore che ingranava provenienti dal cortile del meccanico sembrava che la casa dovesse crollare da un momento all'altro per il fracasso poi il primo alunno della giornata arrivava alla casa della maestra di musica e allora giù uno stridere di violini uno strimpellare di pianoforti uno spernacchiare di trombe o il lamento stonato di un flauto si aveva l'impressione che la musica avrebbe spaccato da un momento all'altro tutti i vetri della casa l'uomo che viveva fra questi due vicini rumorosi le aveva provate tutte tappi di cera per le orecchie copri orecchie imbottiti cacciare la testa sotto il cuscino perfino chiudersi nell'armadio ma i motori ruggivano e la musica strideva fino a fargli scoppiare la testa così non si può andare avanti disse fra sé una mattina ma non riusciva nemmeno ad udire i propri pensieri e dovette quindi urlarlo forte così non si può andare avanti andò dal meccanico che abitava nella casa accanto e gli offrì un bel gruzzolo affinché vendesse la sua casa e se ne andasse agli ordini comandante disse il meccanico che non aveva mai avuto fra le mani unte tanto denaro me ne andrò domani poi l'uomo andò dalla maestra di musica e le offrì tutto il denaro che gli restava perché traslocasse oh ma certo naturalmente caro disse la maestra che non aveva mai visto tanti soldi in vita sua me ne andrò domani stesso e così l'uomo della casa di mezzo se ne andò tutto felice a rinchiudersi nell'armadio con un cuscino sulla testa e con i copri orecchi imbottiti per l'ultima volta e si chiedeva come mai quella fantastica idea non gli fosse venuta in mente prima il mattino dopo andò perfino ad aiutare la maestra a fare le valigie spero proprio che abbia trovato un altro bel posticino in cui abitare disse mentre l'aiutava a trasportare il pianoforte giù per le scale oh sì e grazie sono stata davvero molto fortunata ho saputo che anche il meccanico che vive due porte più in là cercava un posto dove andare ad abitare e così io vado ad abitare nella sua casa e lui verrà ad abitare nella mia ciao ciao Grazie a tutti.